ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale io sono grace dopo aver finito among the sleep nelle puntate precedenti oggi proseguiamo la nostra avventura con il dlc compreso nell'acquisto del gioco e lo trovate esattamente cliccando seleziona capitolo e prologa vediamo cosa ci aspetta a 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 ok manca o sopra o sotto allora prima vediamo solo e ha chiuso con il cancelletto a 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 allora bisogna andare sotto a 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 amici la nostra prima avventura con il dlc finisce qui spero che il video vi sia piaciuto commentate e condividete sui vostri social network ci vediamo con la prossima puntata o con la prossima avventura un saluto a tutti da GraceGamer78